Guarda che l'aiuto cuoco ti deve dire una cosa Ah ma me lo dica subito no? Ma è una mezz'ora che te lo dicevamo? Bravissima Alice! Signore e signori il nostro aiuto cuoco Alice! Bravissima grazie a tutti poi Ora io sgomberò la pista perché io devo proseguire Oh voglio tornare dai miei piccoli Amici vediamo un po' facciamo un sondaggio Vediamo se da ieri sera a questa sera aumentano le manine Quanti di voi conoscono il canale youtube del Villo Sierpus? Bene ma non è ancora proprio in massa Quindi visto che siete ancora in vacanza per una settimanina E i genitori sono più pericoli